Corpo emerso dalle acque del lago grande di Avigliana nella città di Torino, secondo quanto emerso apparterebbe a una persona scomparsa il 14 agosto, che le forze dell'ordine, temendo un gesto volontario, hanno sempre cercato, seppur senza diffondere, le generalità. Il giorno prima di Ferragosto erano stati i familiari del giovane a lanciare l'allarme dopo aver ritrovato in casa un biglietto che faceva purtroppo pensare al peggio. Grazie a tutti.